Emergono particolari inquietanti dalle carte della procura di Teramo rispetto all'inchiesta sull'acqua del Gran Sasso. Le opere realizzate con lavori milionari, circa 80 milioni, da parte del commissario straordinario Balducci per la messa in sicurezza del Gran Sasso, sono abbandonate, inutilizzate oppure addirittura usate come allacci di fatto abusivi. E' quanto emerge dalla ricostruzione fatta dal CTU e dal NOE nell'ambito dell'inchiesta sulla sicurezza del principale acquifero regionale. Nella documentazione depositata emergono dunque particolari sui quali il forum dell'acqua auspica anche il coinvolgimento della Corte dei Conti. Opere costate decine di milioni di euro, alcuni tubi sono addirittura, siccome non sono sconnessi fra di loro, sono stati collegati abusivamente da qualcuno che non voleva sprecare quell'acqua e li ha collegati. con un altro tubo preesistente, la canala di cemento che doveva essere abbandonata perché ha delle crepe e è ancora utilizzata perché i tubi appunto messi dal commissario straordinario a metà degli anni 2000 non funzionano o funzionano molto poco. Addirittura alcuni lavori che dovevano essere fatti come quello sui dreni risultano poi non realizzati. Voglio ricordare che queste opere furono messe in campo dallo Stato perché il commissario era un commissario addirittura del governo, quindi stiamo parlando di un'inefficacia che parte da livelli più alti. Speriamo che la Corte dei Conti attenzioni come deve, a nostro avviso, c'è un fascicolo sul nostro esposto già aperto, però adesso ci sono le risultanze appunto dell'inchiesta della Procura, dei sopralluoghi di Noe, le perizie di CTU, quindi ci sono tanti elementi. Al di là dello spreco di denaro pubblico che sembrerebbe evidente e che è grave, però ancora più grave è che quello spreco potrebbe comportare un problema per chi beve quell'acqua. Non ha risolto i problemi che doveva risolvere, e cioè l'impermeabilizzazione delle condotte che servono l'acquedotto con le altre acque, per esempio quelle che vengono dalle autostrade. Ecco, questa situazione continua a permanere, doveva essere risolta ormai da già da dieci anni.